Il termine che caratterizza il nostro convegno appunto quello di aczio per le competenze che ho ho pensato di esaminarlo nei commenti all'etica nicomachea e quindi vedrò un po' però ho selezionato un tipo di azione perché sarebbero varie insomma le tipologie di azione che si potrebbero affrontare anche dentro un commento all'etica ma quello forse più come dire specifico dei commenti all'etica nicomachea è quella del volere quindi l'azione del volere. Ecco dov'è che questi commentatori dell'etica nicomachea affrontano questa azione del volere soprattutto nel terzo libro dove Aristotele tratta della responsabilità morale degli atti umani. La prima osservazione da fare è che i maestri delle arti trattano a lungo di volere che col termine velle di volontà voluntas e di volontarietà voluntarium discutendo il testo aristotelico anche se Aristotele non parla mai né nel terzo libro né altrove di una facoltà della volontà e quindi né di volere né di atti volontari. Come è noto la traduzione di Burgundio da Pisa che è stata fatta intorno alla metà del XII secolo che poi viene ripresa e rivista da Roberto Grossatesta è stato Burgundio ad aver introdotto il termine voluntas e i suoi derivati rendendo bulesis con voluntas e basandosi sulle Tusculane Disputationes di Cicerone dove aveva trovato questo termine già tradotto così e traducendo Ecusion con voluntarium ha fatto sì che i commentatori ignari del greco intendessero che nel terzo libro dell'etica nicomachea lo Stagirita stesse interpretando una dottrina della volontà concetto che all'epoca era ben noto grazie soprattutto agli iscritti di Agostino di Ippone e di Anselmo d'Aosta. In realtà per Aristotele la bulesis è il desiderio del fine e costituisce la spinta grazie alla quale l'uomo arriva a questo fine producendo poi l'azione. Tale desiderio razionale lavorando di concerto con l'intelletto pratico il quale delibera in merito ai mezzi da utilizzare per perseguire tale fine e formula giudizio pratico in base al quale operare la scelta alimenta tutto il processo psicologico che porta all'azione. La bulesis è la tensione continua del soggetto desiderante che si acquieta soltanto quando il fine è conseguito. Aristotele ha una concezione unitaria della persona ed è soltanto a partire dallo stoicismo di Epiteto e di Seneca e poi in maniera più chiara e forte nel pensiero cristiano di Agostino che si istituirà nel soggetto umano una separazione netta fra la facoltà conoscitiva e la facoltà volitiva, ognuna con un proprio compito da assolvere all'interno della dinamica dell'agire. Allo stesso modo i termini ecusion e accusion qualificano per Aristotele rispettivamente l'atto compiuto consapevolmente, en son plein gré, diceva, traduceva René Antoine Gautier, cioè fatto apposta, di buon grado, ma anche in maniera spontanea, e l'atto fatto malgrado se, malgressoa, cioè controvoglia, con dispiacere e di cui quindi l'uomo non è responsabile. Burgundio traduce ecusion e accusion con voluntarium e involontarium, dando l'errata impressione che questi atti rimandino allo stesso plesso semantico di voluntas e producendo una sorta di agostinizzazione di Aristotele. In sintesi Aristotele tiene distinte bulesis e ecusion, cioè distingue la tendenza al fine, che è bulesis, che è un'azione necessaria quando si tratta del fine ultimo, in quanto l'uomo tende per natura a realizzare il proprio fine, e l'agire spontaneo, ecusion, degli esseri dotati di capacità di automovimento. Quindi non solo l'agire dell'uomo, ma anche quello degli animali. I medievali, sprovvisti del testo greco e della capacità di leggerlo, non hanno consapevolezza di questa distinzione e ricostruiscono tutta la discussione sull'azione, necessaria o spontanea, nell'alveo della dottrina del volere. A complicare la trattazione e anche la comprensione del senso originale del pensiero di Aristotele è l'introduzione dei termini libertas, liberum arbitrium, tipicamente agostiniani, che vengono collegati alla coppia voluntas-voluntarium, ma che sono concetti assenti nell'etica nicomachea. Alla luce di quanto detto, risulta chiaro che l'interpretazione medievale dell'etica dell'azione aristotelica è minata da una sostanziale incomprensione di fondo. Studi recenti, e mi riferisco ai lavori di Olivier Boulnois, Tobias Hoffmann, Guido Alinei e Pasquale Porro, per citarne solo alcuni, hanno dedicato molta attenzione al problema della libertà e del libero arbitrio e quindi anche alle correnti del volontarismo e dell'intellettualismo del XIII-XIV secolo. È stato analizzato il pensiero di grandi autori come Tommaso d'Aquino, Enrico di Gand, Pietro di Giovanni Olivigo, Fredo di Fontaine, per limitarmi appunto al 200, che è il secolo al centro del nostro convegno, su cui abbiamo il nostro focus, e sono state prese in esame le stumme e i quadlibeta in cui questi teologi trattano diffusamente della dottrina dell'azione morale, spesso entrando reciprocamente in dialettica. Sappiamo che Goffredo polemizza con Enrico, Enrico aveva polemizzato con Tommaso d'Aquino. Può sembrare strano, ma nei commenti all'etica nicomachea, scusate, ma i commenti all'etica nicomachea redatti dai maestri delle arti di Parigi nel XIII secolo non sono entrati, a quanto mi risulta, nel novero delle fonti analizzate. Viene spesso citato e a buon diritto Sigeri di Brabante per la sua radicale posizione intellettualista, espressa nelle questiones morales e nel Tractatus de Necessitate et Contingencia Causarum, ma di Sigeri non conserviamo purtroppo alcun commento all'etica nicomachea. La scarsa o quasi nulla attenzione riservata ai maestri delle arti e ai loro commenti in questo contesto di libertà e di libero arbitrio è dovuta in parte al ridotto numero di edizioni critiche disponibili. La maggior parte dei commenti è inedita e fruibile soltanto sui manoscritti. Per chi è qui può vedere appunto, adesso forse potrei mandarlo successivamente a chi è a casa, avete un handout in cui, cioè un foglio, il dossier dei testi che commenterò invece quello che è qui proiettato sullo schermo, in cui riassumo e tengo aggiornato un po' il prospetto della ricezione dell'etica nicomachea. E allora vedete che c'è un blocco sugli primi commenti dell'etica nicomachea, poi ci sono quelli della seconda metà del XIII secolo, vanno un po' oltre il soggetto del nostro convegno, perché sono indicati anche quelli di Oxford e poi quelli di Vienna, che sono molto più tardi. Ma è così perché, per darvi l'idea del, un po' della ricezione del testo aristotelico. Ecco, come vedete però, quando c'è un'edizione critica l'ho indicata e quindi nella maggior parte dei casi vedete che non c'è un'edizione critica, sono ancora sui manoscritti. Dobbiamo leggere i manoscritti per poter fruire di questi commenti all'etica nicomachea. Quindi poche edizioni disponibili, ma anche, quindi poca attenzione riservata a questi maestri, perché in essi, in questi testi, non si trova una trattazione approfondita dei nessi tematici collegati all'azione morale, ovvero ai temi della libertà e del libero arbitrio, che sono al centro dell'interesse degli studiosi che ho citato prima. Quindi è legittimo, diciamo, che non siano stati presi in considerazione. I maestri delle arti, infatti, seguendo la lettera del testo aristotelico tradotto in latino, non trovano i termini libertas e liberum arbitrium e quindi non vi dedicano questioni specifiche. Inoltre, i loro commenti spesso non sviscerano le questioni in profondità, ma argomentano perlopiù in maniera stringata, senza entrare nel vivo della discussione dell'epoca, animata dai teologi. Del resto, non dobbiamo dimenticare l'importanza che riveste la tipologia di commento scelta dai vari maestri delle arti, la quale, come ci ha insegnato Olga Weyers, ha un impatto anche sull'esegesi del testo. Nel caso, ad esempio, del commento di Robert Kilworby, che trovate appunto nello specimen che avete, pubblicato di recente da Anthony Celano, si tratta di un'esposizio del testo aristotelico con poche note di commento e quindi è evidente che non vi si può trovare una problematizzazione di contenuti etici. Altri commenti, invece, sono suddivisi in lecciones, dove un brano dell'etica nicomachea viene spotto nella sentenza e nell'esposizio littere, e poi discusso nelle questiones, come nel caso del commento di Parigi e dello pseudopeccam. Quindi si tratta della tipologia di commento che già Olga Weyers aveva collocato come fase cronologica la prima metà o la metà del XIII secolo. Altri commenti, invece, sono suddivisi in lecciones, scusate, in questiones, quindi come quelli di Radulfo Brito e dell'anonimo Pi, un tempo Giacomo di Due, attribuito a Giacomo di Due, che quindi sollevano delle questioni dal testo aristotelico e le discutono, scegliendo ovviamente il maestro che sceglie quali questioni far emergere dal testo. E questioni dedicate espressamente alla libertà e al libro arbitrio non si trovano, anche se la tematica della libertà e del libro arbitrio è dentro poi nelle pieghe del testo. Sulla teoria dell'azione contenuta nei primi commenti all'etica nicomachea non è stato scritto molto. Valeria Buffon, che saluto perché è collegata, che si occupa del commento dello Pseudo-Petcam, ha di recente pubblicato alcuni saggi sul concetto di scelta e per parte mia ho dedicato alcuni lavori alla dottrina della volontà del cosiddetto commento di Parigi, alla cui edizione critica sto lavorando da un tempo troppo lungo, come sanno i direttori della collana Studi Artistaro. Non va meglio per i commenti della seconda metà del XIII secolo a cui, dopo Gautier, si è dedicato Jacopo Costa, pubblicando anche l'edizione critica di due commenti, quella dell'anonimo P, un tempo appunto Giacomo di Due, e di Radulfo Brito, che appunto sono nella collana che ho appena citato Studi Artistaro, che adesso ha cambiato forma, copertina grafica, ma che sono questi due volumi. Nonostante, come dicevo, questi commenti non siano dei trattati esaustivi ed estesi come le erano spesso i Quodlibeta, cercherò ora di mostrarvi con qualche breve esempio tratto dal commento di Parigi, quindi uno dei primi commenti all'Etica Nicomachea dedicato soltanto all'Etica IX e Vetus, perché la ricezione dell'Etica Nicomachea è completa dei dieci libri soltanto dalla metà del XIII secolo, e mentre l'Etica IX e l'Etica Vetus, come sapete, ricordate, sono soltanto i primi tre libri dell'Etica Nicomachea. E facendo soprattutto poi riferimento ai due commenti editi da Costa, come anche, quindi si vedrà come anche in questa tipologia di testi, si trova una riflessione comunque interessante sull'azione morale, che merita di essere presa in esame e per essere valorizzata e apprezzata va collocata nel contesto storico-dottrinale del loro tempo. Il volere dell'uomo si esprime soprattutto mediante due azioni, il desiderio di un fine da perseguire e la scelta fra più opzioni disponibili e utili al raggiungimento del fine. Il desiderio, come abbiamo visto, viene tradotto in latino con voluntas e la scelta con elezio. Nel terzo libro Aristotele spende varie pagine per spiegare la differenza fra bulesis e proairesis, insistendo sul fatto che la bulesis riguarda soltanto il fine e la proairesis soltanto i mezzi per raggiungere il fine. Questa distinzione non è sempre chiara, soprattutto non lo è ai primi commentatori, che, influenzati dai maestri di ideologia dell'epoca, fruitori della distinzione fra bulesis e telesis di Giovanni Damasceno, intendono voluntas non solo come voluntas finis, ma anche come voluntas deliberativa, ovvero come volizione che contiene in sé già la deliberazione. Per questo, seguendo in particolare Filippo il Cancelliere, l'anonimo commentatore di Parigi, cioè il commento di Parigi, distingue una voluntas sine deliberazione è una voluntas cum deliberazione, quest'ultima coincidente con la scelta, con l'eleccio. Il fraintendimento fu introdotto da Filippo, da Filippo il Cancelliere, che come ipotizza Odon Lottin avrebbe confuso i concetti di bulesis e di buleusis, basandosi su una copia della traduzione di Burgundio recante in interlinea il termine consigliazio, che traduce appunto buleusis. Questo fraintendimento di Filippo fa scuola e da allora in poi il termine voluntas non viene usato soltanto per esprimere i desideri del fine, ma anche la volizione con cui si approva o rifiuta il giudizio pratico, operando una scelta, quella che noi consideriamo l'azione propria della facoltà della volontà. Dalla metà del XIII secolo la dottrina e la terminologia si assestano, cosicché il termine voluntas indica per lo più la facoltà della volontà, ora chiaramente distinta dall'intelletto, mentre secondo i primi maestri costituisce una parte dell'intelletto pratico. Ma voluntas può indicare, il termine voluntas può indicare anche l'atto di volizione, accanto ad appetitus rationalis, altro sintagma non usato da quanto ho potuto vedere dei primi commentatori. Questo appetitus, questo atto di volizione, appetitus rationalis, è diretto al fine ultimo oppure ad un fine prossimo. E sempre in questa stabilizzazione, diciamo, della terminologia e della dottrina, il termine voluntas può indicare anche l'atto di volizione che esprime con senso un rifiuto del giudizio pratico e che va dunque a sovrapporsi al concetto di scelta. Questo per dire che, a mio avviso, quando si leggono i testi bisogna sempre stare attenti immediatamente, forse il termine volonta si richiama alla nostra mente facoltà della volontà, ma non è sempre così evidente. Guido Alinei ha spiegato in modo molto chiaro come nel XIII secolo si vada istituendo un nuovo paradigma della psicologia dell'atto morale, inerente soprattutto a questo paradigma, a volontà, libro arbitrio, libertà, scelta. Un paradigma che, assumendo materiali, dottrinali aristotelici e agostiniani, li plasma in maniera inedita, formando così lo schema di riferimento in ampia misura condiviso dai teologi dell'epoca. Tale paradigma mi sembra condiviso anche dai maestri delle arti che nella seconda metà del XIII secolo commentano l'etica nicomachea e possiamo fare alcuni punti. La volontà è una facoltà autonoma, quindi ora sto parlando della seconda metà del XIII secolo. La volontà ormai è una facoltà autonoma, l'azione naturale della volontà verso il fine ultimo è necessaria, il libro arbitrio esprime la possibilità di scelta fra beni intermedi diversi, cioè fra beni a cui non si è portati per natura, la scelta è un atto specifico della volontà. Se è così, cioè se questo paradigma è condiviso non solo e all'Inei porta l'esempio di Tommaso di Enrico di Gand ma è condiviso anche dai maestri delle arti in cosa si differenziano fra di loro le dottrine del XIII secolo e qual è il contributo dei commentatori dell'etica nicomachea. La specificità delle teorie dei singoli autori si misura principalmente sulla base di una differente concezione di scelta. Ancorché tutti siano d'accordo sul fatto che sia un atto della volontà la scelta, resta da precisare il ruolo esercitato dalla volontà durante la scelta rispetto ai giudizi della ragione e le situazioni che abbiamo sono tre così schematizzate diciamo. La volontà può decidere di agire rendendo operativi dettati della ragione cioè accettando il giudizio pratico e questo è il punto di vista di Tommaso che aggiunge anche l'altra opzione per la volontà è quella di non agire per niente. Secondo seconda situazione la volontà in quanto potenza attiva può autodeterminarsi ad un'azione o ad un'altra e questa è la dottrina di Enrico di Gand la volontà terza situazione segue necessariamente giudizio della ragione e l'oggetto del nostro volere riveste il ruolo di causa efficiente dell'azione volontaria secondo un principio aristotelico che è il seguente omne quod movetur abaglio movetur scusate movetur e questa è la posizione di Goffredo di Fontaine quindi siamo sostanzialmente di fronte al problema che divide l'intellettualismo moderato in Tommaso radicale in Goffredo e il volontarismo di Enrico rispetto a questo quadro che caratterizza appunto il XIII secolo ci possiamo chiedere come si collocano i nostri maestri delle arti ovviamente non c'è nulla di come dire non ho potuto fare una mappatura completa soprattutto perché bisogna appunto leggere anche i manoscritti ma mi baso soprattutto su l'anonimo P e Radulfo Brito nelle prime questioni del terzo libro dell'Etica Nicomachea i commentatori si domandano partendo dalla definizione di Ecusion e Accusion di Aristotele se esistano delle azioni volontarie nell'uomo l'anonimo P e Radulfo Brito spiegano che sono volontarie le azioni prodotte quando il principio è strinseco e questo è contenuto nei testi 1 e 2 Radulfo è più preciso si sofferma maggiormente sulle azioni prodotte da un principio esterno all'uomo spiegando che alcune di queste non sono volontarie bensì violente cioè subite dalla gente che non prova alcuna inclinazione volontaria verso di esse si tratta delle azioni involontarie per costrizione di cui parla Aristotele altre azioni invece pur essendo prodotte da un principio esterno sono volontarie perché prevedono una qualche inclinazione della volontà si tratta delle azioni naturali altre ancora sono volontarie perché prodotte da un principio interno all'uomo che inclina ad un certo fine precedentemente appreso in particolare nel testo 3 arrivo mi posiziono nel testo 3 Radulfo si avvicina maggiormente alla lettera aristotelica parlando anche di azioni comparso una pubblicità o una precauzione di qualcosa Radulfo si avvicina maggiormente alla lettera aristotelica parlando anche di azioni volontarie spontanee fit spontanee dice che si compiono senza alcuna inibizione che sono caratteristiche degli animali e dei bambini in effetti per Aristotele l'ecusion è un atto che non appartiene ai soli agenti razionali ma che include anche l'agire degli animali e dei fanciulli tuttavia se si considerano le azioni volontarie prodotte dalla volontà allora Radulfo siamo ancora nel testo 3 afferma che esse non saranno volontarie né per i fanciulli né per i bruta animalia in quanto essi non possono usare la ragione e la deliberazione l'espressione bruta animalia che ricorre anche in altri passi del commento di Radulfo e che per inciso usa anche Tommaso nella sentenza Libretti Corm è molto diffusa come sintagma sembra indicare davvero gli animali in Radulfo sembra indicare davvero gli animali come voleva Aristotele a differenza di quanto accade nell'anonimo P che parla insistentemente di Brutus riferendosi agli uomini rozzi questo fraintendimento che assume un'importanza significativa nell'anonimo P non è avvalorato dalle traduzioni dell'etica nicomachea che non recano il termine Brutus ma soltanto animalia un antecedente però si trova un antecedente rispetto all'anonimo P si trova nel commento di Parigi che è scritto qualche decennio prima dove il maestro nei testi 4 e 5 sostiene che Aristotele con animalia intende gli uomini che vivono in maniera irrazionale brutaliter siccut animalia viventes dice perché non agiscono secondo ragione bensì sono comandati dall'anima sensibile in questi testi il commentatore anonimo afferma che il volere ecco qui lui dice voluntas ma è uno di quei casi in cui credo non si debba intende facoltà della volontà anche perché c'è sotto una dottrina dell'anima di questo maestro che sostiene che la volontà è dentro l'intelletto pratico dicevo afferma che il volere si può concepire in due modi come parte dell'anima razionale o come parte dell'anima sensibile sulla quale comunque interviene il potere della ragione ma talvolta permettendo ai sensi di operare anzi scusate anziché comandarli quindi permette anziché comandare ecco perché l'uomo agisce in maniera bestiale l'errore secondo l'anonimo commentatore parigino sta dunque nell'atteggiamento permissivo della ragione non nell'azione volontaria che è comunque sotto la guida della ragione per questo conclude in linea con Aristotele lasciando da parte gli uomini bruti che non si può dire che i bambini e gli animali non compiano azioni volontarie quindi dopo averci detto che comunque per bruti Aristotele intendeva piuttosto gli animali gli uomini che vivono brutali conclude comunque col pensiero di Aristotele includendo anche gli animali fra coloro che hanno i bambini coloro che hanno l'azione volontaria l'anonimo P che potrebbe essersi ispirato al commento di Parigi proprio per interpretare il sintagma brut-animalia nel senso di uomini che vivono come gli animali concentra la discussione circa gli atti volontari e involontari sui bruti senza alcun riferimento agli animali e dedica a questi uomini rozzi ben due questioni specifiche chiedendosi se essi possono avere azioni volontarie nella questione 61 e se possano operare una scelta questione 63 l'attenzione particolare riservata dall'anonimo P ai bruti serve a far risaltare per contrasto il corretto esercizio della ragione che è padrone che è proprio dell'uomo e lo rende padrone delle sue azioni homo est dominus lo leggete qui nel testo 6 e 7 nel testo 6 e 7 homo est dominus suarum operazionum è un motto che ricorre con insistenza e che il commentatore dimostra spiegando nel dettaglio il processo psicologico che porta all'azione un uomo e il meccanismo che invece fa agire in maniera istintiva i bruti proprio in questi testi 6 e 7 quando l'uomo coglie o apprende con questo termine traduco la apprensio apprende un oggetto e lo riconosce come qualcosa di buono superazione boni la sua volontà non è obbligata a volerlo immediatamente bensì egli può ancora frenarsi e inclinare la volontà verso un altro oggetto l'uomo possiede la ragione mediante la quale può deliberare circa l'oggetto che il desiderio e la volontà gli sottopongono senza produrre subito l'azione ma valutando se proseguire oppure no al contrario i bruti quando apprendono qualcosa di buono immediatamente statim lo desiderano e danno seguito all'azione l'apprensione cioè questa apprensio dell'oggetto non fa violenza su di essi sui bruti quindi costoro agiscono volontariamente perché appunto un'azione volontaria quando non è subita quando quando non è subita da un principio estrinseco con violenza quindi agiscono volontariamente sebbene in maniera imperfetta compiendo l'azione in maniera spontanea o istintiva per naturale estimazione l'insistenza dell'anonimo P sul ruolo della ragione che valuta e delibera è una costante del suo commento così come quello di Radulfo come di quello di Radulfo che mostra un chiaro intellettualismo nella discussione di una questione molto dibattuta alla fine del tredicesimo secolo dai teologi volontaristi come Enrico di Gand ci tratta della questione nel testo 8 che suona così se alla volontà vengono proposti la domanda è questa alla volontà vengono proposti un bene maggiore un bene minore in questo caso la volontà può rivolgersi al bene minore lasciando il bene maggiore per rispondere Radulfo distingue due tipi di volontà l'una che segue la retta ragione ed è volontà sostudiosa descritta da Aristotele nel terzo libro dell'Etica Nicomachea come volontà retta che misura perché è misura delle azioni buone l'altra che segue le passioni e non è retta ecco e non è retta sono due i tipi per Radulfo se vengono proposti un bene maggiore un bene minore la prima volontà quella retta essa non può lasciare il bene maggiore e scegliere quello minore cosa che invece fa la seconda quella non retta cedendo le passioni queste infatti intervengono sulla ragione facendo apparire come un bene maggiore quello che invece è minore la posizione di Radulfo quindi è chiara se segue la retta ragione la volontà è retta e sceglie correttamente il bene valutato come maggiore dalla ragione come accade spesso nel commento nel suo commento dove frequentemente Radulfo offre la posizione secundum filosofum e secundum teologos più spesso dice anche secundum fidem et veritatem anche in questa questione spiega il punto di vista dei teologi questi ritengono che la volontà sia libera e che sia una potenza attiva tanto da non essere condizionata dall'appetibile cioè dall'oggetto che la ragione ha valutato essere da perseguire e tanto è libera tanto da poter scegliere a suo piacimento sia un bene maggiore sia un bene minore subito di seguito Radulfo contrappone l'autorità di Aristotele siamo appunto nel testo 9 che nel sesto libro della metafisica definisce la volontà come una facoltà passiva e secondo cui è impossibile quanto sostenuto dai teologi la volontà non può fare altro che venire mossa dall'appetibile e non può volgersi ad altro se non a ciò a cui l'appetibile la inclina ecco siamo di fronte ad un determinismo chiaro e netto perché ovviamente questa posizione secondo un filosofo ribadisce quella che prima Radulfo ha già espresso un determinismo chiaro e netto che evoca immediatamente alla memoria la proposizione 130 della condanna di Parigi secondo cui e testo 10 quod si ratio recta et voluntas recta in questa proposizione i censori parigini accusano di pelagianesimo i maestri delle arti in quanto come potete leggere appunto nel seguito della proposizione secondo questo principio si nega la necessità della grazia per una volontà capace di essere retta seguendo semplicemente i dettati della ragione della scienza come sosteneva appunto Pelagio come è noto l'unico nome che conosciamo dei 16 teologi facenti parte della commissione istituita da Tientampie è quello di Enrico Di Gand al quale sembra proprio riferirsi qui Radulfo quando dice secundum teologos in effetti Enrico intorno al 1276 quindi circa dieci anni prima almeno dieci anni prima la composizione del commento di Radulfo all'etica nicomachea perché è datato fra il 1289 e il 1299 quindi sono almeno dieci anni almeno dieci anni prima Enrico scrive il primo codlibet in cui alla questione 16 si pone la stessa domanda che si è posto Radulfo in questa questione concludendo che la volontà quindi è il testo che vedete cominciare in questa pagina concludendo che la volontà può autodeterminarsi a scegliere liberamente fra un bene maggiore o minore accettando o meno il giudizio della ragione quindi la volontà si autodetermina non segue il dettato della ragione questa è la posizione di Enrico Di Gand che è quella espressa a mio avviso secundum teologos da Radulfo è interessante sottolineare che anche Enrico passa in rassegno i due tipi di volontà esaminati da Radulfo che erano quelli generalmente riconosciuti dagli intellettualisti la volontà può seguire il corretto giudizio della ragione e allora è virtuosa Enrico usa la stessa espressione voluntas studiosa che ha anche Radulfo oppure la volontà può opporsi al giudizio perché è travolta dalle passioni e allora è viziosa come abbiamo visto è in Radulfo anche così ma poi il teologo va oltre e prolunga l'analisi perché a suo avviso non si è ancora giunti a cogliere il fondamento più intimo della libertà del volere vi è infatti un ulteriore terzo modo di agire nel quale la volontà dell'atto trova sia l'occasione sia la causa solo in se stessa dunque con una totale indipendenza dal precedente giudizio razionale ed è proprio per questa capacità della volontà di autodeterminarsi in assoluta autonomia che l'agire umano sfugge ad ogni forma di determinismo ed è quindi valutabile moralmente questa è la posizione di Enrico Di Gang quindi una terza tipologia di volontà che si autodetermina senza rendere senza subire influssi dalla ragione c'è ancora un passaggio nella questione di Radulfo e del testo 12 che va esaminata e che riguarda la possibilità della volontà di scegliere il male perché quando parliamo di bene minore in effetti si configura questo bene minore come qualcosa di peggiore e quindi di male rispetto a un bene maggiore conseguentemente a quanto affermato in precedenza Radulfo nega che la volontà possa scegliere il male e soprattutto sottolina che la volontà non può scegliere il male subrazione mali cioè sapendo che è male può accadere che la volontà si rivolga a qualcosa che è male ma in tal caso la ragione che le ha offerto il giudizio pratico da seguire ha compiuto un errore di valutazione e ha valutato quel male come un bene apparente ancora una volta Radulfo ribadisce il ruolo della ragione è in essa che può risiedere l'errore e quindi non retrocede dalla sua posizione determinista anche Enrico discute questo problema ma individua nella debolezza ontologica della volontà la causa di questo errore in virtù di questo principio difettivo di questa debolezza ontologica che secondo Enrico deriva dal fatto che la creatura è tratta dal nulla da Dio dal creatore la volontà quando le vengono presentati un bene o un male può preferire il male sempre però considerandolo come un bene apparente e se infatti non può mai volere o scegliere qualcosa sia che la scelta sia buona o cattiva se non considerandolo in qualche modo un bene ma sbaglierà non per un giudizio di ragione bensì per la debolezza della sua volontà anche Radulfo ritiene che il primo oggetto della volontà sia il bene e siamo nell'ultimo testo ma non è il bene simpliciter bensì il bene che la ragione ha valutato essere tale e che le ha sottoposto nel giudizio pratico ecco entrambi gli autori quindi negano che la volontà scelga il male in quanto male sarà questa una dottrina che sosterrà Guglielmo di Ockham qualche decennio dopo perché la volontà ha sempre come oggetto e come fine il bene ma mentre Enrico ritiene che tale che tale che tale volontà ma mentre Enrico ritiene che questo sia frutto dell'autodeterminazione della volontà e che in caso di errore la responsabilità sia della volontà Radulfo ritiene invece che la rettitudine della volontà così come il suo errore dipendano dalla ragione che la dirige con la propria deliberazione e con il proprio giudizio in conclusione tornando al quadro tracciato in precedenza delle tre posizioni Tommaso Enrico Goffredo che nella seconda metà del tredicesimo secolo sono state quindi sviluppate da questi teologi Radulfo si pone sulla scia dell'intellettualismo di Tommaso di Goffredo ma in ultima analisi forse riprende posizioni di un altro famoso intellettualista e maestro delle arti Sigiri Brabante il quale aveva difeso negli anni precedenti la condanna di Parigi le tesi più radicali dell'intellettualismo in particolare nel Tractatus de Necessitate et Contingencia Causarum Sigiri pone ogni forma di libertà nella decisione razionale relegando la volontà al ruolo di causa efficiente degli atti che conseguono da tale decisione cosicché la stessa capacità di scegliere comportamenti differenti è attribuibile alla volontà solamente in conseguenza dei diversi esiti del giudizio pratico ecco quindi mi fermo qui e chiudo quindi pur sapendo che non basta una sola questione per classificare un autore quindi non pretendo che la questione 72 di Radulfo serva possa risolvere il problema del suo orientamento filosofico e sapendo poi peraltro che classificazioni e correnti vanno usate con prudenza la storiografia ce lo insegna è innegabile che Radulfo non solo difende il primato dell'intelletto sulla volontà ma che coraggiosamente pochi anni dopo la condanna di Parigi sostiene una posizione determinista censurata il suo intellettualismo e quello dell'anonimo P non ci stupiscono in realtà perché è risaputo che i maestri delle arti sono stati degli aristotelici radicali e quindi era prevedibile non trovare una dottrina della volontà libera e autodeterminata tuttavia collocati sulla linea della ricezione dell'etica nicomachea quindi quel riassunto che avete trovato in uno dei vostri fogli collocati sulla linea della ricezione dell'etica nicomachea questi commenti della seconda metà del tredicesimo secolo costituiscono l'unico segmento della storia della ricezione strettamente filosofico anche se è stato più volte affermato da Jacopo Costa sulla scia di Gautier che si tratta di plagiari che copiano la struttura argomentativa dei commenti di Tommaso e di Alberto deteologizzandone la dottrina in effetti prima e dopo questa famiglia di commenti della seconda metà del tredicesimo secolo l'interpretazione dell'etica nicomachea ha spesso un taglio significativamente teologico anche se non è in merito alla dottrina della volontà che questa interpretazione teologica emerge maggiormente direi che per i commenti all'etica nicomachea di cui disponiamo per ora i testi e che ho potuto analizzare la volontà resta legata per non dire dipendente dalla ragione pratica del resto come abbiamo visto Aristotele non aveva previsto una facoltà della volontà a cui dare il peso che altri autori invece di quest'epoca danno grazie